Cosa è la psicologia transpersonale? La psicologia transpersonale è una branca della psicologia che si concentra sugli aspetti spirituali e mistici della mente umana. Può essere un campo sfuggente da definire, perché molti psicologi transpersonali integrano una varietà di discipline nella loro pratica, ma essenzialmente si tratta di trascendere o andare oltre la normale esistenza umana. Gli psicologi transpersonali riconoscono anche l'esistenza e il ruolo di stati alterati, trans ed esperienze spirituali. Questa scuola di psicologia è spesso confusa con la nuova era o le credenze metafisiche, forse perché alcuni aderenti a questi concetti includono la psicologia transpersonale nelle loro credenze. Uno psicologo transpersonale può lavorare direttamente come terapeuta con i clienti su vari argomenti, oppure può scegliere di esplorare le opportunità di ricerca. In entrambi i casi, uno psicologo transpersonale ritiene che le esperienze spirituali siano un importante fattore di modellatura nello sviluppo della personalità e nello stato mentale generale. I terapeuti aiutano loro clienti a raggiungere stati che promuovono esperienze spirituali, mentre i ricercatori studiano queste esperienze in una vasta gamma di culture e ambienti nella speranza di saperne di più sulle persone nel loro complesso. Le basi per il campo della psicologia transpersonale furono poste da un certo numero di menti importanti nel campo della psicologia, tra cui Freud, Jung, Maslow e Grof. Molti degli psicologi fondatori di questo movimento credevano che tutti gli umani avessero il potenziale per raggiungere uno stato superiore. Piuttosto che trattare tutte le persone come fondamentalmente malate o contorte, molte persone nel campo della psicologia transpersonale credono che le persone siano semplicemente intrappolate in se stesse. Gli studi di persone che hanno trasceso il proprio ego sono un aspetto importante della psicologia transpersonale. Alcuni psicologi transpersonali tendono più verso il mistico e il divino nel loro lavoro, mentre altri si concentrano sulla moderna teoria psicologica e psichiatrica. Molti credono che la psicologia transpersonale sia un complemento di più aspetti scientifici della psicologia, promuovendo una maggiore comprensione della psiche umana e allo stesso tempo esplorando il funzionamento della mente. Uno psicologo transpersonale che si concentra sul mistico può guardare gli stati di trans, i livelli alterati di coscienza, i rituali e le pratiche sciamaniche nelle culture di tutto il mondo. Queste pratiche possono avere un profondo impatto sulle persone che le vivono e uno psicologo transpersonale ritiene che questo impatto sia importante. Altri possono integrare più studi di attività chimica ed elettrica nel cervello per le risposte alle domande sullo sviluppo della psiche umana.